Sì, sì, sì. l'agglamo è vero che è un'agglamo un'agglamo ho il l'agglamo ok si che è un asciugare no 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 molto bello yes no 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 si va ingrappando ma funghi si, 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 No, 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 no. No, 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 no. e 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 che bello il botto il botto signori un po' di power si vai là mi raggiunto i 130 micron e e c'era un tasso? ma no c'era che fa? e e non è venuto ero ero ho portato uno comunque è la forza dell'accia di un palermo no mi sei andato nei rughi non mi piace alla via sta addirittura oh ho non l'era di quale sta io no dai Oh canucce che power un po' matti personalità ooooh ahah gioc che rompe è non c'è ma che c'è ma che ahahahah a tutti un altro un altro Grazie a tutti.